Ciao, io sono Arianna, lui è Romeo, è un asino amiattino, un asino molto buono, è giovane, ha voglia di giocare, ha circa sei anni. C'è stato donato da una veterinaria che opera nella provincia di Milano e siccome ha una forte passione per gli asini, la sua missione è quella di salvarli dal macello, quindi li compra e li dona poi all'associazione, ai privati che decidono di adottarli. Romeo adesso è qua con noi, quindi chiamateci, se volete è Romeo con voi. Gli asini amici sono degli animali straordinari. In casa mia vivono Fabio e Dugo e sono veramente furbissimi, posso dirvi molto più furbi dei cavalli e poi simpatici, dolci e sono adorabili anche con i bambini. Guardate, Stella e Leo vivono con i miei asini e loro si comportano proprio come cagnolini. E poi pensate, se lo volevano mangiare, ma come si fa? Io non so più come dirlo. I nostri cavalli, i nostri asini sono i nostri amici e gli amici non si mangiano, ok? Quindi si adottano telefonando al 029435 1244. Oppure come al solito scrivete a portamiacasa.it e vedrete che non c'è detto più sbagliato che indicare l'asinello come esempio di ignoranza o di testardaggine, perché sono veramente eccezionali. Ciao!